Salve a tutti, questo è un breve tutorial per gestire le videoconferenze in modo più produttivo il mio consiglio è di installare sul vostro computer il programma OpenBoard basta cercarlo su Google è un programma gratuito che molti usano già nelle proprie LIM basta scaricarlo e non si paga nulla, è open source una volta scaricato, ognuno per la versione in base al proprio computer o Windows o Mac lo si installa e poi, ecco questa è la pagina che appare è possibile inserire lo sfondo a quadretti o a righe sia nero che diciamo bianco e poi ha una funzione interessantissima che consente di catturare lo schermo per cui, cliccando qua sopra su Mostra desktop compare il vostro desktop poi voi potete fare una ricerca su internet di qualsiasi argomento per esempio cerchiamo un'unità di misura ecco qua, tanto per fare un piccolo esempio mettiamo che mi interessa catturare questo disegno allora basterà cliccare qua sulle forbici e selezionare la parte di schermo che mi interessa catturare e scegliere se inserirla nella pagina corrente oppure nella pagina pulita e questo è il risultato una volta quindi preparate le varie schermate della vostra lezione come vedete io ne ho preparata una sulle unità di misura della capacità è possibile condividere queste schermate con i vostri interlocutori anche con Jitsi quindi se voi andate su Jitsi come al solito iniziate una chiamata inserendo qua un nome, distanza io inserirò Gino prova 1, 2, 3 ecco praticamente è possibile condividere non soltanto il vostro viso ma anche lo schermo cliccando qua in basso a sinistra e scegliendo se volete condividere o l'intero vostro desktop oppure la finestra di un'applicazione specifica per esempio quella di open board condividi ecco qua e in questo modo voi potete condividere il vostro open board con i vostri alunni far vedere le schermate che avete preparato con tutta la descrizione e ritornare poi a inquadrare voi stessi cliccando qua in basso su interrompi condivisione potete anche passare da un'applicazione all'altra tenendo premuto alt e cliccando su tab che sarebbe il tasto quello con le frecce posizionate in orizzontale con le due frecce posizionate in orizzontale vedete si può passare da un programma all'altro grazie a tutti